Ciao Paolo Melo Cerchiato, qui è Gini Mema Sampdoria. Allora, adesso si comincia con la seconda parte. Visto che la prima parte ha avuto successo, abbiamo promesso la seconda e la seconda c'è. Quindi, allacciate le cinture, mettetevi comodo, fatevi una birretta, popcorn, patatine e godetevi un'altra bella compilation di smattate. Ovviamente sempre con la presenza delle partite dei derby, perché da quando facciamo il post-partito non abbiamo più vinto un derby. La cosa non è molto bella da dire, però... Porca vacca, portiamo Iella. Guardatevi questa bella compilation. Aio, Paolo Blu Cerchiato, ma che partita di merda, che partita di merda, mamma mia. Ma cosa abbiamo col Cagliari? Cosa abbiamo col Cagliari? Riusciamo a vincere contro chiunque? Riusciamo anche a battere il Real Madrid una volta ogni tanto? Ma il Cagliari no, porca puttana! I giocatori della Sampdoria, sto parlando con voi. Avete paura di qualcosa? No, io, un figlio di psicologia l'ho studiata, quindi parlatemene, magari parlando vi aiuto ad affrontare questa vostra paura. Cosa avete paura? Dei pagliacci, degli zombie, dei ragni. Dite la riporta, porca troia! È il vostro lavoro! Se io gioco da questo lato e devo fare gol di qua, a che cazzo mi serve continuare a passare la palla indietro se devo fare gol di qua? Per ripartire tutti insieme? Sì, ripartiamo tutti insieme. Diamo tutti insieme a braccietto. Così poi altri ce la infilano al nostro piede ribartendo in contropiede. Bravi! Oppure, oppure, se la riparsi indietro, uno fa la cagata perché non ha senso ripassarglielo indietro, si fa buttare fuori e poi rimaniamo nella merda perché siamo un in meno. Cos'hai fatto, Tonelli? Cos'hai fatto? Dei danni! Spero che nelle prossime partite ci saranno dei cambiamenti, proprio a livello di gruppo. Poi giochiamo contro Bologna, che è un avversario che sulla carta, sulla carta possiamo battere. Non facciamo cagata, non dico vinciamo tra 4-0. Però a me ne evitiamo di perdere. O evitiamo di giocare come oggi. Poco, non ho giocchiato! Che bello! È finita! Benissimo! Sampdoria e Regini, 1-2. Fantastico, ragazzi! Come un uomo può rovinare un'intera squadra. Nella maniera più intelligente del mondo. Promettendo grandissima fedeltà perché è vero. Regini cosa? Saranno 10-15 anni che ha la santa. Ma perché? Non perché sono bandiera. Perché nessuno lo vuole comprare. Ma chi lo compra uno così? Uno che in una partita come quella di oggi ti rovina tutto da solo. Se nessun'altra scuola ti ha comprato è perché evidentemente fai più cagare delle prugne. Tra tre giorni abbiamo anche il derby. Vediamo di fare anche una bella figura di merda di uscire dalla Coppa Italia contro il Genova. Ma uscire contro il Genova no. 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 Io voglio una squadra con le palle. Che giochi con le palle. Appena preso il gol dell'1-1, Leris ha fatto un intervento su Marchetti. Ma quello non è da rosso. Quello è da dargli una fucilata direttamente. Ha tentato omicidio. Gli è entrato con il ginocchio qua. Pita una bastarda. Io personalmente avevo dato rosso diretto a un idiota come Leris che non dovrebbe neanche calcare i campi di calcio. Che mi chiedo? Qual è l'unica utilità di Leris? Quella di confondere gli avversari. Per forza. Con noi o con loro? Perché sta facendo cagata tutto. Non lo so. E con noi? No. La maglia dell'altra squadra. E ho capito. Ma sta aiutando noi. Eh. Eh. Molto bene. Ora che ha fatto la versione politically correct tutti possono essere contenti. Scusate se è tolto il video ma sto andando a cercare una corda con la quale impiccarmi. Ciao popolo blu cerchiato. Iscrivetevi al canale YouTube. E tutti quelli che sono genuani se ne possono incantare a fan... Fratelli e sorelle. Preghiamo. Preghiamo santo Emil che oggi ci ha salvato da sconfitta certa. Preghiamo grazie a questo nostro nuovo salvatore. Ciao popolo blu cerchiato. Stasera sì. Stasera sono molto incazzato. E non con la Samp. Tutt'altro. Saltando ci sta che un po' di equilibrio lo perdi. Ma ha avuto l'equilibrio di un ubriaco il giorno di San Patrizio. È saltato con le braccia così che sembrava non avesse più la coordinazione. E poi. Rigore. La mano ha toccato così. Lui era d'altra parte. La mano stava andando a Catanisetta. Lui stava andando dove cazzo vuole andare. Non lo so. Non mi interessa. Rigore senza senso. Perché? Perché sì. L'ha presa con la mano. Ma allora? Allora quest'anno noi la prima di campionato abbiamo giocato contro l'Iventus. Borucci così. L'ha presa qua. Eh? Ma o no. Quest'anno c'è la volontarietà dei giocatori che va considerata. Perché insomma. Bisogna anche tenere conto della volontarietà. E da come cazzo. Vabbè. Va a fanculo. Iatto. Come cazzo faceva? A prendere la palla se non sapeva neanche dove cazzo stava andando lui. Tonaglio ha preso il palo. Su un tiro con una velocità che una lumaca. ha confronto... È un... Il Millennium Falcon. Signor Calvarese di sto grandissimo cazzo. Lo dico. Non mi frega niente. Ha messo una palla dentro. È arrivato Simechers. È entrato da otto secondi. Porca toia. E ha fatto gol. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Allora, cari, carissimi giocatori della Samba, se voi non conoscete la matematica, venite da me che ve la spiego. Allora, le partite di calcio, una partita normale si svolge in un campo da calcio, questo, si vede male, ma è questo, che dura 45 più 45 minuti che fa 90, ok? Una partita si fa in 90 minuti, 90, ok? Ricordiamoci questo numero. 90 minuti bisogna giocare! Due tempi, non uno! Posso anche capire una sconfitta. Posso anche capire la sconfitta per due, ma non capisco un'altra volta buttare nel cesso dei punti! Beh, ma proviamo, vediamo. No! Dobbiamo portare a casa dei risultati. No, n'è anche più quello. Forza d'olio! Ciao, papà, ho proprio giacchiato, ho distrutto gli occhiali con cui facevo ferereo, pazienza! No! 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 E poi chiedetemi, chiedetemi perché odio il Sassuolo, che squadra di merda? È una squadra di merda, di una società di merda che se non esistesse saremmo tutti più contenti. Il Sassuolo non ha fatto niente, ha fatto una cosa, schifo, ha fatto schifo il Sassuolo. Perché vedere una squadra come il Sassuolo, che occupa quella posizione di classifica della Serie A, ma mi viene voglia di vomitare, ma mi viene voglia di vomitare. Ne abbiamo presi due in un minuto, meglio di Cicciolina. Eeeh, abbiamo vinto la Cicciolina Cup! Salavar. Ah, una bella pugnetta, caffettino, birretta, giochiamo all'Xbox. Oh, coglioni, guardate la partita! Allora ragazzi, spero vi sia piaciuta questa compilation di smattate, divisa in due parti. A fine anno faremo una piccola classifica delle 10 smattate totali dell'annata. Un video un po' più breve, ma un po' più sclerato, anche perché... Prevedo che da qui a fine anno sclererò molto, molto di più, anche perché ragazzi, c'è da una crofo in ragione andata, quindi... Ragazzi, importantissimo, come sempre, l'abbiamo già detto mille, mille più volte. Iscrivetevi al canale YouTube perché aiuta la prevenzione a essere genuani, che è una malattia terribile. Succede, non è che... Capita. Purtroppo a qualcuno capita di essere genuano, quindi... Iscrivendosi a questo canale si evita questa piccola... Piccola... Questa enorme disgrazia. Attivate la campanella delle... Tipiche, così o meno. Quando sclero... Notifica, lo sapete, e siete tutti contenti. Ciao popolo blocciarchiato! Forza SAP!